hanno dovuto aspettare ma ne valeva la pena l'ex gfino davide silvestri e la moglie alessia costantino si godono un super viaggio di nozze al caldo alle maldive sul social condividono foto e video della vacanza nella splendida isola dell'atollo nell'oceano indiano si fanno vedere dai follower raggianti non potrebbero desiderare di più il 42 n era già legato alla sua lilli così la chiama quando è entrato nella casa del grande fratello vip 6 i due convivevano in brianza vicino milano una volta fuori dal reality ha formalizzato la proposta di matrimonio a bellusco davanti alla chiesa di santa maria maddalena davide ha bendato la fidanzata sulle scale della chiesa complice pure il suocero mauro ha chiesto ad alessia di sposarlo le nozze sono arrivate il 3 luglio 2022 con una cerimonia a tema contadino impegni di lavoro hanno però reso impossibile la partenza per una spettacolare animun alla fine ce l'hanno fatta e sono volati via dall'italia con un aereo di linea e arrivati sull'isola partendo da malè poi in idrovolante alle maldive silvestri e la costantino si rilassano romantici prendono la tintarella fanno tanti bagni e si dedicano insieme allo snorkeling ammirano con tanto di maschera boccaglio e pinne i pesci colorati che popolano il mare cristallino del posto a settembre scorso in coppia hanno sfilato alla mostra del cinema di venezia davide è tornato al suo amore più grande tra i protagonisti del film nina dei lupi dopo essere stato volto di vivere altre fiction e alcune pellicole si era fermato mancando la sicurezza economica ha aperto un birrificio artigianale a milano ora alterna di nuovo il set all'attività di imprenditore con il cugino checco silvestre dei modà grazie 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 grazie